Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, questo è lo speciale Natale, poi uscirà pure lo speciale Capodanno, come ogni anno. È importantissimo per me rispettare le regole perché questa situazione si deve risolvere, quindi sarà un Natale un po' diverso dal solito. Mi auguro che il Natale prossimo sia migliore, non è bello che mi metta a parlare già del prossimo anno, però vorrei soltanto questa situazione che si deve per forza di cosa risolvere. Qui ci sono i regali per noi, calettoni, biscotti, gatto. Bene ragazzi, sono sette di sera, qui c'è questa roba da mangiare, noi stiamo sotto verso l'esercito a mangiare, qui ci sono piatti, la notte sarà proprio magica, io muovesco cuori, pure fresco, però è bello. Non sono riuscita a fare un video, il video diciamo del tramonto di stasera, perché più che altro, come sapete, quando c'è la mia famiglia io ho evito di registrare perché loro non vogliono apparire nei miei video, giustamente ognuno la pensa come vuole, però adesso vi faccio vedere la foto ed è proprio spettacolare il tramonto di stasera, c'è stato proprio spettacolare, vi ecco la foto. Abbiamo finito di cenare, la mia famiglia sta vedendo un film, se sentite la televisione appunto, perché film, intanto io ho anche biscotti. ragazzi, è la mattina di Natale, come sempre io non ho finito a registrare i miei video, comunque ero stanta, sono crollata, comunque questo regalo che ho ricevuto, avevo proprio bisogno di un portachiavi, perché ragazzi, questa signorina qua, ha perso le chiavi di casa, molto probabilmente le avrò lasciate al torrentruna, però non sono sicura di queste, quindi almeno ci metto altre chiavi, mi serviva proprio. Quindi ragazzi, il video finisce qui, vi auguro un buon Natale, anche se è stato un Natale diverso, è un Natale diverso, e ci rivediamo al prossimo video.